Un imprenditore fa i suoi conti, se entro l'anno non gli arrivano le risorse, si indebita, si espone con le banche e rischia di chiudere. Pronti a scendere in piazza ad andare a Roma il 14 febbraio per manifestare contro il mancato pagamento dei PAC i premi della politica agricola comunitaria. L'AMPA, l'associazione nazionale produttori agricoli, si è riunita oggi alla mezza terme per fare il punto su quella che è diventata una piaga incolmabile per chi lavora nel settore. In questo periodo di crisi infatti gli agricoltori puntano su questi fondi per mettere in agenda le loro attività e pagare i loro dipendenti, ma i ritardi spesso mandano a Montetutto. Molti poderi, molte aziende agricole hanno rinunciato alla potatura, hanno rinunciato alla raccolta, non hanno potuto pagare i contributi, si sono indebitati con l'Imbis perché contavano su questi aiuti che dovevano essere, non dico il toccasana, ma comunque qualcosa che li aiutasse nel risolvere questi problemi. Tiziano Abagnato per la CNews24